Casualmente è qui con noi una persona molto speciale che noi terremo ad invitare casualmente sul palco con noi ed è Piero Frassi, raggiungerà noi. Munito di sedia ovviamente. Mi approfitto per spendere due parole su quello che è il concept di questa band e dell'album che abbiamo registrato. I parking attendants sono un po' una presa in giro, una delle figure più folcloristiche forse della città di Napoli che sono appunto i parcheggiatori abusivi e quindi ho voluto semplicemente forse dare una veste più ironica o tragicomica appunto a quella che è la terra dei fuochi. E il prossimo brano che suoneremo per voi appunto è Trains and Thieves che appunto sta per Treni e ladri che ho scritto in una delle mille volte in cui mi sono trovato nella circo vesuviana a vagare tra le città e la campagna. Grazie, grazie mille. Scusate vorrei un applauso per Piero Frassi. Che fa finta di non sapere nulla, è incredibile. Una recitazione impeccabile. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.